Con la cosa di rapina aggravata e tentata rapina è stato arrestato dalla polizia di Pescara il 19enne che nei giorni scorsi ha aggredito alcuni giovani in città, minacciandoli con un coltello multiuso per farsi consegnare i cellulari in quattro distinti episodi ravvicinati che hanno creato non poco allarme tra i cittadini. Il 19enne, residente in provincia di Pescara e con precedenti specifici già da minorenne, era da poco rientrato in città, dove alloggiava in un albergo, ma si era subito dato da fare seminando preoccupazione tra i cittadini per le aggressioni compiute nelle serate di lunedì scorso lungo la strada Parco al confine con Montesilvano e martedì in via Cesare Battisti, dove un 22enne è stato anche accoltellato alla spalla nell'androne del suo palazzo e poi in via Lebovio alla fermata dell'autobus. Mercoledì sera però l'aggressore è stato individuato dagli agenti della squadra mobile quale autore delle quattro rapine aggravate, di cui una in via Lebovio, tentata e non riuscita per la fuga della vittima minorenne, consumate ai danni di altrettanti giovani, come ha spiegato Gianluca Di Frischi a capo della squadra mobile di Pescara. Con queste dinamiche e questa spregiudicatezza non c'era capitato e quindi abbiamo subito capito che non essendo una cosa normale c'era un qualche elemento di estraneità rispetto al contesto ordinario e infatti abbiamo visto che questo ragazzo era arrivato a Pescara proprio la mattina del primo evento, della prima rapina e per fortuna siamo riusciti a fermarlo in tempo, prima che ne facesse altre chiaramente. Esattamente ci sono stati tre episodi distinti per un totale di quattro vittime di rapina da parte di questo soggetto, di questo aggressore armato di coltello, ai danni di alcuni giovanissimi, perché due di questi erano addirittura minorenni e in particolare mirati alla consegna dei loro cellulari. In uno di questi episodi l'aggressore ha attinto con un fendente, un ragazzo di 22 anni, alla spalla. È chiaro che la spregiudicatezza e l'aggressività di questa persona sono allarmanti. All'arresto si è arrivati con dei servizi mirati, proprio partendo dalle descrizioni che seppur generiche avevano dei tratti in comune, delle peculiarità che appunto rendevano la cosa diciamo anomala, per cui siamo andati subito per strada con dei servizi mirati in determinate zone, sapendo che avremmo potuto poi trovare questa persona anche perché da quello che ci risultava avrebbe potuto agire nuovamente.